buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 6 settembre 2024 il santo è san zaccaria san zaccaria un profeta biblico il penultimo dei profeti minori ma non meno importante visse nel sesto secolo avanti cristo visse nel ritorno degli ebrei dall'esilio di babilonia e sostiene poi la necessità di ricostruire il tempio che era stato distrutto anni prima da nabucco ovvero da nabucco donosor sì il protagonista della celebre opera di verdi diciamo così per inciso ma nabucco donosor ovviamente fu un re babilonese che interpretò un momento importante della storia della vecchia dell'antica luna fertile appunto che caratterizzava il territorio ancora oggi martoriato del medio oriente fu lui ad annunciare la venuta di un messia umile e pacifico quello che poi fu ripreso anche in seguito fino a che questo ruolo non fu interpretato non fu diventato protagonista appunto gesù cristo e allora ci ho detto passiamo alle previsioni del tempo il tempo sembra che sia in miglioramento su tutta la regione marche dopo i brevi piovaschi delle giornate di ieri e l'altro ieri prevalente in tutta la regione dunque il ritorno del bel tempo le massime sono leggermente diminuite arriveranno 28 29 gradi insomma non sono più i 34 dei giorni scorsi le minime 19 gradi leggermente inferiori ai 20 ai 21 lo stesso dei giorni scorsi i venti sono localmente moderati sulle coste spireranno da ovest nell'entroterra da sud ovest il mare è leggermente mosso il sole il sole è sorto alle 6 e 35 e tramonterà alle 19 e 36 allora abbiamo detto un po come si preventiverà la giornata di oggi come sarà la giornata di oggi allora cominciamo a leggere le notizie a partire dal resto del carlino abbiamo la prima pagina di fano di questo giornale dove vediamo che risalta la polemica dei multa velox c'è stata una interrogazione di samuele mascarin che è stata evidenziata anche dalla stampa di ieri che cerca di fare chiarezza sulla funzionalità o meno dei multa velox in modo particolare del multa velox di metauriglia è quello di cucurano che continua a macinare multe ma non si era detto che questi autovelox non erano omologati e quindi non dovevano essere messi in funzione l'amministrazione comunale aveva messo anche un comunicato che questi sarebbero stati spenti ma sembra invece che così non sia stato ed ora interviene sulla questione Luca Rodolfo Paolini avvocato ed ex parlamentare della Lega Paolini ha sempre combattuto una battaglia contro i multa velox ricordiamo in modo particolare quello che macina ancora multe ad acqua lagna dopo il furlo dove ci sono dei rettilini Paolini difficilmente gli automobilisti lì rispettano i limiti di velocità e quindi quello insomma costituisce una fonte di reddito molto molto proficua anche per il comune di Cagli insomma anche per quei comuni della zona Paolini dunque cosa fa? smentisce il sindaco sugli autovelox perché? perché secondo il sindaco Ser Filippi quegli autovelox sono sistemati sia a Cucurano che a Metauriglia possono funzionare nei termini di legge la Corte di Cassazione ha stabilito che l'utilizzo dei parecchi non omologati è illegittimo avrebbe detto però ci sono altre sentenze e quindi anche la magistratura è contraddittoria a questo riguardo a sostegno delle proprie affermazioni il sindaco cita la sentenza del Tribunale di Bari che equipara gli apparecchi autorizzati a quelli omologati Paolini però ricorda che la Cassazione, organo superiore appunto del Tribunale di Bari dice il contrario quindi la sentenza di Bari potrebbe essere cancellata insomma è un problema che ancora a livello nazionale deve essere risolto e vedremo che fine faranno le multe che nel frattempo sono state notificate ai trasgressori della velocità ma a parte la funzionalità o meno degli autovelox sappiamo benissimo che il rettilineo di Metauriglia e soprattutto la consolare Flaminia che penetra all'interno della frazione di Cucurano sono dei tratti pericolosi della viabilità osservare i limiti di velocità non è una questione di autovelox ma è una questione di moralità soprattutto e di prudenza per salvare le vite umane a Metauriglia alcune persone sono morte sono morte anche sulla Flaminia quindi i 50 km all'ora dovrebbero essere rispettati e autovelox presenti o meno insomma è una questione di correttezza e allora cambiamo le altre notizie vediamo che c'è stato un nuovo blitz al Vittoria Colonna dove si interviene ormai sempre più spesso per evitare che lo stabile venga occupato abusivamente dai senza detto questa volta non è stato trovato nessuno all'interno del Vittoria Colonna ma sono stati notati ancora segni di effrazione alle porte e alle aperture del grande complesso sono intervenute la polizia di Stato e la polizia locale che hanno trovato tentativi di effrazione ma non abusivi all'interno e sono state effettuate nel contempo anche verifiche antidroga in centro storico queste ormai sono abituali, sono ricorrenti queste verifiche si tiene sott'occhio in modo particolare Piazza Miani, il Pincio la zona della rocca malatestiana che sappiamo essere punti molto molto sensibili frequentati dai spacciatori il Comune abbatte sei tigli rovinati li abbatte in Piazza Andrea Costa dove sono in corso gli scavi archeologici per il progetto di arredo o di ristrutturazione dell'intera piazza sono in Piazza Costa ma al tempo i parassiti li hanno danneggiati seriamente l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari ha dichiarato che verranno sostituiti con ontani napoletani quelli che hanno quelle foglie a forma di cuore e raggiungeranno un'altezza massima tra i 15 e i 20 metri ma ci vorranno degli anni perché appunto questi alberi crescano in maniera rigogliosa quindi un intervento che non dovrebbe però non si sa mai suscitare le reazioni degli ambientalisti perché insomma sono tigli rovinati però insomma quando si abbattono degli alberi piange sempre un po' il cuore di coloro che amano la natura Serfilippi e Mangarnino nelle scuole che sia l'inizio di un bel viaggio sindaco e assessore hanno salutato studenti e personale all'inizio dell'anno scolastico per i bambini più piccoli quelli che frequentano gli asili nido mentre il 9 lunedì prossimo il 9 settembre inizieranno la scuola chiamiamo la scuola ma in realtà l'asilo è qualcosa di più di una scuola non si imparano materie scolastiche ma si impara l'indipendenza si impara la interazione con gli amichetti i primi amichetti di una società che poi crescerà con tante altre relazioni e poi insomma lì si impara un pochino a essere autosufficienti e questa veramente è l'azione didattica che è un'azione didattica ben valorizzata che si coltiva a Fano Fano celebra le azzurre del volley domani con tanti nomi di spicco l'evento promosso da Pallovolero e Panathlon il mondo della pallavolo fanese celebra la medaglia d'oro della nazionale di volley femminile alle recentissime olimpiadi di Parigi ebbene insieme ai meritati festeggiamenti perché questa è una storica impresa quella compiuta dalle pallavoliste a Parigi ebbene sarà l'occasione anche per riflettere sul fatto che sia tutto oro quello che luccica ma lì sono proprio le medaglie che luccicano e veramente lì veramente il successo è stato pieno con lo sguardo poi rivolto al futuro bisogna chiedersi anche in che stato di salute è versa lo sport di base e la cultura sportiva in genere sono questi i temi che verranno posti all'attenzione del pubblico ed è una bella iniziativa che viene svolta domani e domani, no anzi sabato sì domani sabato sabato la banca di credito cooperativo di Fano cosa fa? festeggia i figli dei soci e dei dipendenti lo vediamo qui lo farà Albalì che è diventata da qualche anno la cornice ideale per lo svolgersi di questa manifestazione consegnando loro i bonus bebè sono degli aiuti che vengono dati alle giovani coppie così perché insomma si è incrementata la famiglia e quando si incrementa la famiglia con un bambino piccolo aumentano anche le spese e quindi la banca giunge in aiuto a questi sono 97 i nuovi piccoli risparmiatori sono infatti piccoli le loro famiglie protagonisti della quindicesima edizione di Banca e Famiglia un evento istituzionale che viene organizzato dalla Banca Fanese nel corso del quale vengono donati bonus bebè ai neonati del territorio quest'anno riceveranno il contributo 97 neonati per un totale di 24.250 euro e beh insomma qualcosina aiuta sempre passiamo ora a Colli al Metauro la scuola Rodari non è pronta e purtroppo i bambini dovranno andare dovranno andare a Tavernelle per frequentare quella scuola il cantiere dovrebbe proseguire ancora i lavori sono in atto dovrebbero proseguire fino al 31 ottobre prossimo però insomma questo crea problemi alle mamme costrette a pagare babysitter per accompagnare i loro figli a scuola quindi non saranno finiti in tempo per la riapertura dell'anno scolastico i lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia a Rodari e così 45 famiglie di Calcinelli dovranno portare ancora i propri figli a lezione all'ex scuola materna di Tavernelle continuando a patire i disagi che sono stati già vissuti nel precedente anno scolastico quello del 2023-2024 e la conferma è arrivata proprio con una lettera spedita dall'amministrazione comunale alle famiglie in oggetto alle famiglie interessate vediamo subito a Urbino dove vediamo che c'è una presa di posizione del consigliere regionale Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia che è anche presidente della Commissione di Sanità il quale cerca di controbattere alle critiche che la sanità territoriale in modo particolare quelle della provincia di Pesaro Urbino manifesta Baiocchi i problemi della nostra sanità sono stati creati dal Partito Democratico dice lui e noi cerchiamo di metterci una pezza ma ci vorrà tempo il problema però è quanto tempo ci vorrà ancora lo vedremo poi anche anzi lo vediamo subito vediamo anche l'articolo di apertura del Corriere Adriatico dove si parla di sanità e soprattutto si parla anche dell'atto aziendale che il direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale si appresta a redigere Alberto Carelli entro il 25 ottobre ebbene ancora ci sono molti problemi da risolvere per quanto riguarda la sanità ogni tanto li vediamo emergere dai giornali abbiamo visto nei giorni scorsi come i ritardi della MOC siano veramente lunghissimi anzi se un fanese volesse fare questo esame a Fano non lo può fare perché le liste di prenotazione sono chiuse ma sono chiuse da mesi perché per esempio questa ricetta datava il mese di marzo e poi abbiamo visto anche come in altre province come a Senigallia i problemi sono gli stessi e poi c'è questa benedetta cosa della mobilità passiva che costringe alla regione di pagare molti soldi alle aziende di fuori regione in modo particolare quelle dell'Emilia Romagna allora quanto tempo ci vorrà perché questi problemi saranno risolti ovviamente Baiocchi non lo dice però insomma cerca lui con tutta la regione di fare il possibile però insomma il problema i problemi al momento rimangono e parliamo ora di siccità a Urbino cercano di risolvere il problema sistemando delle cisterne piene d'acqua potabile in vari punti della città questa cisterna per esempio è stata posizionata a Mercatale rubinette a secco collocate due cisterne d'acqua potabile la sorgente del Monte Nerone che in passato erogava 110 litri d'acqua al secondo è passata a 30 pensate quanta diminuzione di prelevamento d'acqua c'è stata e ci sono anche problemi a Mazzaferro e nelle frazioni della città Ducale per la pensione un regalo unico un defibrillatore da donare ebbene dato in pensione il dottor Dino Orazzi decano degli equipaggi delle ambulanze un medico molto molto stimato un medico che ha dedicato la propria vita a cercare di salvare la vita degli altri di curare gli ammalati ebbene andando in pensione ha avuto dei regali dagli amici e lui trasforma questo regalo nell'acquisto di un defibrillatore che viene donato all'agriturismo Casser Antonio di Urbania un luogo bellissimo in comune d'Urbania che nasce in un poggio sulla vallata del Candigliano vicino a Piobbico insomma coloro che frequenteranno questo luogo un po' decentrato della nostra provincia potranno stare al sicuro perché se per casa accadesse un malore il defibrillatore è uno strumento che può salvare la vita vediamo anche qualche notizia di Pesaro pubblicata dal resto del Carlino l'apertura è dedicata sempre alle polemiche di opera maestra Riviera Banca paga opera maestra i soldi cegli a chiesti Santini ebbene viene rilevata la testimonianza del presidente dell'istituto Fausto Caldari la richiesta era in una lettera firmata dal collaboratore dell'allora sindaco Ricci Santini ora si cerca di capire se ci sono versamenti anche degli anni prima insomma qui ogni tanto si rovista in questa vicenda che sembra che non conosca mai il fondo ebbene però qui c'è stato un problema di ordine di cronaca un problema di insomma un pericolo proprio che si è verificato in un in un condominio di Pesaro brucia una casa paura alla celletta in salvo la proprietaria in salvo anche i suoi dieci gatti e la proprietaria che era assente dalla casa non ha appena saputo di quello che era accaduto la prima cosa che ha temuto è proprio la vita dei suoi gatti a cui è molto affezionata affezionata è stata evacuata anche una famiglia al piano di sopra perché le fiamme sono debordate appunto dal luogo in cui sono scaturite sembra che sia stato un cortocircuito di un frigorifero comunque la casa l'appartamento diciamo meglio è stato completamente devastato e le fiamme hanno intaccato anche il piano di sopra la proprietaria al rientro si è abbandonata alla disperazione perché non riusciva a vedere i suoi animali che chiamava per nome ad uno ad uno andandoli a cercare fin sotto le auto ma i vigili del fuoco li avevano già messi in salvo perché gli animali erano fuggiti e si erano nascosti in un giardino vicino quindi erano stati così messi al sicuro parliamo anche dei problemi ancora dei bagnini che tra la Bolkestein e la siccità l'aggressione delle onde che mangia la spiaggia insomma sono immersi veramente in un mare di problemi possiamo chiamarlo così bagnini in trincea le nuove concessioni che sono state così stabilite dal governo che ha prorogato l'applicazione della Bolkestein al 2027 con un indennizzo che chi subentra dovrebbe pagare al titolare della concessione cedente ebbene ma questi indennizi come si calcolano dicono i bagnini e perché solo per gli investimenti degli ultimi cinque anni ebbene sono dei punti interrogativi che ancora così destano timori e preoccupazioni per i concessionari di spiaggia e anche il turismo incrocia le braccia oggi lavoratori sotto Confindustria c'è una mobilitazione in via Cattaneo a Pesaro per rinnovare il contratto che è fermo dal 2018 e tutta la cosa coinvolge 400 dipendenti interessati sono sei anni di ritardo che grava sugli addetti di quei tour operator e di quelle imprese turistiche i cui datori di lavoro hanno dotato un particolare contratto l'unico del settore e ancora che non è stato rinnovato vediamo ora anche le novità che interessano la visita di Rocca Costanza che è una visita che non interessa soltanto i turisti che vengono a passare le vacanze a Fano ma interesserebbe anche molti pesaresi i quali avranno anche l'ingresso libero ma anche i fanesi e tutti coloro che abitano nella provincia perché Rocca Costanza è un monumento che appartiene un po' a tutti ebbene sono state già predisposte le visite a settembre un posto per 2.000 persone occorre però la prenotazione che deve essere fatta almeno 24 ore prima della visita per prenotare la visita bisogna rivolgersi all'amministrazione comunale che ha messo a disposizione il numero 0721 3875 41 3875 41 oppure ci sono gli altri canali c'è la posta info chioccio alla pesaro musei punto it o il modulo del sito di pesaro 2024 punto it ed ora passiamo anche al Corriere Adriatico abbiamo visto l'apertura che tratta un tema di sanità poi abbiamo anche un annuncio dell'amministrazione comunale che dice che ci sono 150 segni di cura in pagamento sono quelle fasce di popolazione assistita che hanno un'isee particolare mentre la seconda apertura è dedicata al turismo è dedicata al turismo nel senso che è stato contratto un accordo tra gli albergatori e l'amministrazione comunale per la promozione della città e gli albergatori si impegnano a realizzare diversi diversi compiti per cercare di valorizzare il nome di Fano e di propagandarlo sia a livello nazionale che a livello internazionale l'enogastronomia è in primo piano perché si è constatato che attira moltissimo e poi abbiamo i tineris e abbiamo l'opera di formazione degli operatori sono qui cluster che sono stati ormai evidenziati come la Fano Marinara come la Fano Outdoor come la città di Vitruvio la città del Carnevale la città dei bambini e delle bambine in regione lunedì prossimo quando si riunisce il prossimo consiglio regionale dopo la pausa estiva si dovrebbe parlare anche dell'insufficienza di organico del commissariato di Fano una insufficienza che ormai si propaga da diversi anni che questa volta viene fatta oggetto di una interrogazione del Partito Democratico per sensibilizzare la regione affinché il Ministero riconosca l'importanza di Fano terza città delle Marche anche in tema di ordine pubblico anche in tema di presenze di poliziotti che dovrebbero assicurare appunto quei controlli territoriali che necessitano alla città siamo ormai in conclusione vediamo che a Monte Felcino si opera per il restauro del Palazzo del Feudatario e Castelli conferma Castelli che è dunque Castelli conferma il finanziamento di 2 milioni e 300 mila euro per il per il restauro di questo palazzo che è un punto centrale della vita di Monte Felcino poi in ultima notizia quella della di Senigallia presentato il nuovo ponte di Pianello Acquaroli mette al sicuro la frazione e la bella caratteristica di questa struttura sono le vele in ricordo appunto delle vittime dell'alluvione e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.